e siamo in live di nuovo pokémon zapiro alfa porto al ghepoli quindi andiamo siamo qui per un motivo molto importante cioè a saltare il covo del team idro allora davanti chi c'ho? su quello scottato lo spostiamo ordina mettiamo manectric che deve allenarsi un pochino borsa niente andiamo tada 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 questo fermo immagine è bellissimo direi di sì sono appena partito che devo salvare cominciamo a devastare allora partiamo da qua uh subito uno strumento mi piace pipita non per oggi si ritorna domenica barra lunedì a caterpi un po' di pausa mi piace portare anche giochi che non ho mai fatto o giochi che ho fatto ma mi piace rigiocare coraggio ovviamente benvenuto in live sì lo so fa più ascolti i caterpi ma questo mi piace lo stesso e quindi lo porto lo stesso eh beh beh insomma allora raggio scossa interessante ma come ma come dai colpiscilo l'ha fatto solo una volta minimizzato maledetto maledetto infame di un manectric ok allora lui ha avvelenato ok allora lui ha avvelenato era meglio se cambiavo pokemon proviamo di nuovo l'ultimo poi al massimo lo revitalizziamo bravo quanto odio le le mosse che abbassano la la precisione il mio odio per quel tipo di mosse borsa ok salve ho qui un attacco super efficace dovrei metterlo ko con un solo colpo come regola ok nooo ho sbagliato non volevo vabbè ormai è andata qui non si combatte? ciao l l 287 2 2 2 non mi serve niente al momento quindi vado avanti grazie ll 287 apprezzo tantissimo zaffiro alfa benvenuti in giurma ll 287 spero ti troverai bene questo è zaffiro alfa benvenuti in giurma porcone spero ti troverai bene troppo gentile ma continua pure ad adularmi giga impatto one shot allora vediamo un attimo anche qua dove vado qua mi scusi ciao alla prossima buona serata niente sono in una stanza da letto allora proseguiamo a destra a sinistra andiamo a sinistra uno strumentino di un'utilità straordinaria proprio allora parliamo con l'ominide qua un'altra stanza da letto uno uno una mossa nero pulsar mi piace nero pulsare bella un'altra stanza da letto un'altra stanza da letto deve essere la stanza del palestrato ah meno male c'è qualcuno che lotta un'altra stanza da letto ma un'altra stanza da letto un'altra stanza da letto un'altra stanza da letto No, non mi avvelenerà Uh, si era un attimo saltato il gioco Che pessima cosa Allora, allora Scommetto che si deve andare di là Ciao, non lo so Eh, direi di no Qua Torniamo da capo Rifacciamo tutto Sì, mi ricordo di te Ed è un piacere Riaverti in live Andiamo così Allora, abbiamo fatto quello Adesso faremo questo Allora, questo è sicuramente un electrode Come ovvio che sia Carina Energy Sfera Almeno non si è fatto esplodere Un classico Uno dei più grandi classici Fifty Fifty Lo becco male Usato un attimo Lotta Terremoto Ovvio Ma è un non nulla Per la mia potenza Non mi fa nulla Non mi tange nemmeno Masterball Giusto Torniamo all'inizio Rimettiamo lui Salve ragazza Se vuole può farsi da parte Stelle a grada Perfetto Mi scusi Come ha fatto a evitarlo E soprattutto Perché l'ha evitato Grande Alexa Alexandra Martacca Grande Benvenuta in ciurma Spero ti troverai bene Allora Intanto devo usare Borsa Tato La bottino La bottino Allora Devi fare Raggio scossa Devi Non è un'opzione Grazie Dei like Gentilissimo Un 25 E' un 5 contro 1 E' un 5 contro 1 Cambio tattico Cambio tattico Vieni da paparino Problema Problema Allora Lotta Mega evoluzione Terremoto Vedi di farlo Non farti prendere Dalla malinconia Ci hai fatto prendere Dalla malinconia No Però due L'hanno evitato Come è possibile Non può essere solo colpa di turbo sabbia Cambio Cambio Hai già tirato Hai già tirato abbastanza La carretta E' il tuo momento Zaffiro Zaffiro alfa Zaffiro alfa No 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 Barato E' anche fatto bene come gioco Oh Abbiamo uno scontro Abbiamo uno scontro diretto da fare Allora devo cambiare un attimo la squadra Ordina Ordina Sì sono qua Visto Non vi ho lasciati da soli Grazie dei like Grazie vendetta Troppo gentile Grazie del regalo Se sistemassi in fretta A me e la mia squadra Potresti ancora riuscire a raggiungerlo Teoria è un solo pokemon no? Mi hai aggiunti altri Dall'ultima volta? No Sempre solo uno Sharpido Cambio Grande Damien Bravo dormi Che dormire ti fa bene Grazie vendetta Benvenuti in turma Ti è già registrato prima Non fa niente Mi piace quelli che fanno come te L'importante è registrarsi Ivan è tutto per te Sti cavoli Direi che abbiamo fatto il covo Quindi adesso ci possiamo dirigere Alla città circondata dal mare Ma prima Ci andiamo a curare Finora tutto bene Grazie Grazie Frantumiamolo Frantumiamolo Ah che bello Intra forza ghiaccio Allora si procede per via mare Via marittima Mi scusi Mi scusi Mi scusi Signorina Vuole lottare Sospetto Sospetto sia un sì Sospetto sia un sì Ok Ok Fai dimenticare No Perfetto Perfetto Sì a Leo È andato Non ne hai altri Immagino No Ovviamente no Una città No 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 una casa in mezzo nulla va bene adesso so dove abiti direi che va bene Manectric non so ancora chi mettere come quinto Pokémon come sesto Pokémon scusate reggerai anche un inverti volt direi di no grande perla oh è qua siamo già arrivati niente strumenti direi di no niente strumenti direi no ce n'è uno direi di essere giù dalla scogliera allora qua c'è la palestra va bene allora togliamo un attimo questo sì grazie piaccio molto al mio Manectric questo mi fa piacere mi onora me la dia pura male non fa bambino signorina signorina cos'ha da dichiarare lei grande Antonio benvenuto in live e benvenuto in ciurma è un onore spero ti troverai bene ok ok allora qua c'è il centro Pokémon qui c'è una casetta qui c'è una casetta mi scusi di ora deve pensare un po' più ottimistica però perché se no non va bene pensi a campare un po' più a lungo no il linguaggio degli oggetti sente le voci ciao lina benvenuta e gra e benvenuti in ciurma benvenuti in live e benvenuti in ciurma spero ti troverai bene è un onore allora di qua niente uno strumentino sempre utile andrei benvenuti in ciurma è un onore sì me lo dia non so neanche dove sto andando che è sto posto vabbè ci guarderò in futuro suppongo allora ah una base una base aerospaziale un museo un museo direi grazie lei è particolarmente gentile signore signore piano di sopra ottimo a saperci non c'è niente altro da vedere allora direi che possiamo andare anche in palestra non di qua di qua di qua allora pokemon ordine direi di puntare questa squadra qua ok l'ho già preso credo ciao dave benvenuto allora cadavra swampert vai e direi di partire con una buona frana cambiamo la direzione andiamo da quell'altra e di qua la ricordavo meno intricata ok ho un voto di memoria lunatone e sorrock hanno levitazione questo è pokemon zafiro alfa cresci pugno cresci pugno non cresce tanto non fa tanti danni vediamo frana ho trovato prima ho trovato prima l'emulatore poi il rom come emulatore va bene ci tra nightly amore amore devi attaccare però non far finta far finta è cosa brutta è pessima comunque no li trovi separati non insieme trovi prima uno e poi l'altro non 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 molto molto bene cambio cambio riusciremo a battere telepatta al primo colpo la domanda è molto importante la risposta altrettanto come osi tu essere dalle dalle dieci punte cioè allora cioè veramente ma next trick non fare cose del genere che non sono di tue competenza dai attacca su bravo ma next trick non 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 av non 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 Sì, Mekko Sì, Mekko Buonasera, Simone Come la va? Tutto bene? Tutto bene Un po' stanco Ma è venerdì e quindi va tutto bene E infatti si vede Lo sbadiglio Il ruggito del leone No, bella tua strada Si vola Ciao Telepatter Un attimo sole, sono da voi Allora, Super Potion Salviamo Tanto uno vale l'altro, no? No, no, me l'aspettavo Me l'avevano detto Che culo che avete Io andrei in paranoia Se uno mi legge nel pensiero Ah, proprio così? Alla vecchia? Lunatone So rock subito Sono arrivato a bastardo E' abbastanza preparato Però Fenomenale Adoro E' che cosa? E' abbastanza preparato Calmamente Può tornare utile E' stato facile? Me la ricordavo Un po' più difficile Che succede? Non si può mai stare tranquilli Ma Che hanno combinato? E' il team idro Sicuro Ho necessità di un Pokémon Che faccia Sub Andiamo Un Pokémon Minenario L'antro avvisale Grazie Amicone Amicone Grazie D'accordo No No Zappiro Alfa Amiok Allora Innanzitutto Ci curiamo Che Almeno Fin qua A sette medaglie Ci siamo arrivati Poi Poi Posto Allora Deposito Tu E mi serve Tu E mi serve E mi serve Forza Ma Assolutamente No Sì Vediamo Quale Dimentica Che Poi Che poi In realtà Sub È meglio Di Tutto Sommato Da Che tentacool Aspetta Un attimo Sì Che Ti devo Dire L'unica Utilità Diversa È che Fa 90 Però È forte In attacco Non è In attacco Speciale Potrei Anche Toglierli E Dargli Sub Sicuramente Più Utile Dov'è L'Elimina Mosse Dove Abbiamo L'Elimina Mosse Qua In questo modo Io potrei Tenere Lei Non Allora Prima di Tutto Acquistiamo Un po' Di Roba Tipo Le Ultra Come se Piovessero Ciao Poi Cerchiamo Subito L'Elimina Mosse Pokémon Bolo Cancella Moshe Qua Mi ricordava Qualcora Allora Allora Dimentichiamo Surf Fantastico Adoro I piani Ben Riusciti Centro Pokémon No Ho Sbagliato Non è Questo Questo È Il Market Il Centro Commerciale Questo Quante Ne Ha Grazie Red Lizard Sei Stato Sei Veramente Gentile Grazie Grazie Del Regalo Allora L'inun Beh Gli Tolgo Botti In Testa Sposta Allora Allora Borsa Sub A Swampert Sì Mentre Surf All'inun Sì Sì Via Botti In Testa Perfetto Sono Un Ma Un Mostro Sono Un Mago Allora Pokémon Volo Montepira Montepira Molto importante Prepararsi Noi Noi abbiamo Bisogno Di Un Duskull Ma come Primo Pokémon Dobbiamo Mettere Bello No Super Direi Di No Ancora Il cimitero Era Obbligatorio Per Proseguire Nella Storia Adesso Mi serve Solo Per Un Motivo Ho Bisogno Di Un Duskull Che Mi Bruci Svello Ancora Eh Che Cosa Nascere Timido Duskull Bravo Giuggiola Vieni qua Bravo Perfetto Funziona Sempre Svello È Molto Sottovalutato Obiettivamente Ordina Manectric Togliamo Lo strumento All'inon Pokémon Volo 130 129 127 Ah Proprio Lì Ok Direi Che Siamo Estremamente Pronti Salva A Nuoto Sulle Spalle Di Un Furetto Mi Piace Come Cosa Scusi Vuole Lottare Sai che non lo so se c'è Mewtwo E' la prima volta che ci gioco Benvenuti in live carlo Ciao alexandra Ciao alexandra Uno dei tre volanti A seconda del Pokémon iniziale Ho bisogno che mi fai Che me lo colpisci Sta balena La devi colpire La devi colpire Si può sapere cosa ti prende Manectric Perché è importante sapere cosa ti prende Ci voleva tanto Era necessario arrivare a questo Ciao alexandra Ciao alexandra Ciao alexandra Ciao alexandra Il bruciatura diminuisce di mezza l'attacco Ma non Su un Pokémon Che ha denti stretti Non su un Pokémon Con l'abilità di Swellow Che annulla Il Malus E ci guadagna Il maggiore attacco E ci guadagna E ci guadagna E ci guadagna E ci guadagna In fondo al mar In fondo al mar In fondo al mar Allenatori anche in fondo al mar Salve celeste Secondo me è un bel Pokémon Ma si è allenato bene Anche Talonflame Non è per niente male Mi piace Mi piace questo regno sottomarino E ci guadagna Perfetto Perfetto Rimonta Puoi imparare Rimonta I PS Deve sali Una quantità Pari Ai PS Di chi la usa Interessante Eh Sì Ci avevo Ci stavo pensando Anch'io A quella cosa lì No Non vuole imparare Rimonta No Non vuole imparare Sono al percorso 128 E ecco l'altro abissale Ma noi siamo qui per un altro motivo L'altro abissale non lo facciamo adesso In realtà allenatori Direi che qui sotto Non ce ne sono più Questa l'ho già fatta Quindi torniamo in superficie Per esempio tu Carino Snorunt Lo sapevo Sono al percorso Dai, scongelati! A me pare più timido che infredolito, da quest'altra impressione. A me pare più timido che infredolito, da quest'altra impressione. A me pare più timido che infredolito, da quest'altra impressione. A me pare più timido che infredolito, da quest'altra impressione. No che non cambio. A posto. Adesso facciamo un'altra cosa. Allora, mettiamo lui per primo, perché ci dobbiamo preparare per lo scontro, ovviamente, con Chiogre. Cospetto che io devo incontrare Chiogre da catturare. E c'ho una mezza idea in testa. Dove è andata? Vieni qua. Ciao Red! È stato un piacere, adatto adesso vado anch'io. Buona serata! Lotta! Lotta! Aero salto! Perfetto! Perfetto! Demetrio! Demetrio! Dato! Demetrio! Perfetto! Buona serata! C'è no, c'è no, c'è no, c'è no! No, c'è no! Planeta! NEd a dare! Ehi! Ehi! Até la! Ehi! Pedaglia! Ehi! 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 Da! Ehi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.